Una catena umana lunga oltre 10 km per dire no alle trivelle nel mare del Salento. La manifestazione è fortemente voluta dai sindaci di Salve, Morciano, Castrignano del Capo e Patù e dalla sezione Sud di Italia Nostra ha coinvolto tantissimi turisti presenti nelle spiagge del Basso Salento. Un gioco di parole nella locandina per sottolineare la volontà di salvare il mare. Presenti anche i primi cittadini e i rappresentanti di Ugento, Tigiano e Acquarica, l'onorevole Rocco Palese e il batterista dei Negramaro, Danilo Casto. I manifestanti sono dati appuntamento nei pressi dell'ufficio IAT di Pescoluse dove è stata presentata ai turisti e ai residenti la manifestazione, spiegati i motivi dell'iniziativa. L'azione dei sindaci mobilitati per difendere il nostro mare ha dichiarato Marcello Secli, presidente di Italia Nostra, a prescindere dal colore politico all'obbligo di sollecitare la consultazione referendaria per chiedere l'abrogazione degli articoli 35 e 38 del decreto Sblocca Italia relativi alle prospezioni in mare. Puntiamo sempre al dialogo e mai allo scontro, convinti che solo con il confronto pacifico si possano ottenere risultati. Utilissimo e sempre crescente anche l'appoggio di cittadini e associazioni che si stanno mobilitando insieme a noi. Anche il sindaco di Salve, Vincenzo Passaseo, ha voluto ribadire alla sua posizione e quella dei suoi colleghi. Attraverso la protesta ha spiegato cerchiamo di tenere alta l'attenzione su questo tema che ci riguarda direttamente ma che dovrebbe coinvolgere tutti indistintamente perché trivelle posizionate davanti alle coste degli altri paesi che si affacciano sull'Adriatico e sullo Ionio rappresenterebbero un danno anche per il nostro mare. I sindaci dei 97 comuni della provincia di Lecce, Compatti, hanno firmato il patto dei sindaci aderendo ad un modello di sviluppo energetico innovativo. Accettare le trivellazioni, la ricerca e la coltivazione di materiali fossili significherebbe tornare al passato. Con la protesta di luglio e lo sciopero della fame siamo riusciti a far arrivare sui tavoli regionali le questioni e a far assumere un impegno serio da parte di Emiliano, perciò continuiamo con la battaglia per ricordare a tutti che il problema esiste ancora.